Sialudato Gesù Cristo e Avanti con Maria. Cari amici di Radio Domina Nostra, mentre ho terminato anche oggi la celebrazione delle sante messe in parrocchia e penso a quest'ora che sarete tutti a tavola, vi penso tutti a tavola mentre sono arrivato nella mia piccola dimora, tutti vi penso mentre state pranzando o forse avete già terminato dovete ancora iniziare. Oggi è la solennità di Cristo Re dell'universo, allora vorrei ripetere con voi quel grido che ripetevano i Cristeros quando venivano uccisi dalle truppe massoniche che si erano imposte in Messico e gridavano alla loro morte Viva Cristo Re, vorrei proprio con voi ripetere questo grido e oggi sto pensando a molti santi, a tutti i santi perché sono quelli praticamente che hanno con la loro vita gridato che Gesù è il Re. Allora però io vorrei dirvi una cosa molto importante e personale, è molto personale questa cosa, è da stamattina che penso particolarmente a un santo. Adesso io vorrei dire che secondo me quando noi nella nostra vita cristiana pensiamo a un santo o un paio di santi e magari è perché ci sono vicini, magari è perché dal cielo stanno pregando per noi, dobbiamo credere molto a questo vincolo reale e teologico della comunione dei santi. Allora chi è questo santo a cui penso da stamattina? È San Giuseppe Sanchez del Rio, è stato canonizzato recentissimamente da Papa Francesco, è morto a 14 anni, il 10 febbraio del 1928, lui che era nato in Messico e si era distinto fin da piccolo per la sua devozione mariana e poi a 14 anni in realtà lui entra come porta bandiera dell'esercito dei Cristeros. Chi erano i Cristeros? I Cristeros sono l'insieme di quelle truppe che respinsero la provocazione delle leggi anticlericali del presidente Elias Calles e si formò appunto questo esercito popolare, il popolo di Dio si organizzò per una resistenza alla invasione anticlericale massonica, di tipo massonico e tanti morirono, tanti morirono fucilati e morivano gridando viva Cristo Re. Fra questi si distinse proprio San Giuseppe Sanchez del Rio perché a 14 anni lui entrò come porta bandiera nell'esercito popolare che resistette all'invasione massonica e venne arrestato. Fu torturato quasi a morte con delle torture incredibili, gli spellarono la pianta dei piedi costringendolo a camminare per molto. Lui piangeva e pregava ma ripeteva poi di continua vivo Cristo Re, viva Nostra Signora di Guadalupe. Sapete in Messico quanto è amata venerata la Madonna di Guadalupe, me ne sono accorto di presenza quando sono andato. È il momento più bello il momento della sua morte paradossalmente, cioè quando lui come porta bandiera dell'esercito cristero viene invitato dalle truppe anticlericali a rinnegare la sua fede in Gesù Cristo, lui che ha appena 14 anni si rifiuta di farlo e allora viene condannato a morte. Viene condannato a morte e c'è un rinchiuso in una cella costruita come tale nella parrocchia e lui il giorno prima di morire scrive una lettera alla mamma dove in poche parole la invita a non temere per lui ad essere contenta che stia per morire martire per Gesù Cristo. Viene condotto il 10 febbraio dopo la sentenza di morte sul luogo del martirio, giunto al cimitero gli viene indicata una fossa che sarà la sua futura tomba. Per evitare di far sentire rumori di sparo il capo dei soldati gli ordina di pugnalarlo, ma ad ogni colpo di pugnale che San José riceve corrisponde da parte sua un viva Cristo re. Avete capito amici cari? Avete capito cosa significa questo? Ad ogni colpo risponde, ogni colpo di pugnale, il pugnale lo raggiunge in varie parti del corpo e ad ogni colpo di pugnale non morendo il giovane martire messicano ogni volta grida viva Cristo re. È una storia che impressiona, che impressiona noi cristiani cattolici italiani così un po' rilassati, impauriti, preoccupati quando le cose non vanno come noi vogliamo e lui invece grida viva Cristo re, viva Cristo re ad ogni colpo di pugnale e allora il comandante delle truppe anticlericali esasperato dal fatto che non moriva, anzi che urlava viva Cristo re, gli chiede se ha un'ultima parola prima di fucilarlo per suo papà e sapete cosa risponde sul punto di morire José? Risponde così, ditegli che ci rivedremo in cielo, poi urla per un'ultima volta viva Cristo re, viva Santa Maria di Guadalupe e solo uno sparo riesce a interrompere il suo urlo, il suo grido di fede. Ecco carissimi amici, oggi che la solennità di Cristo re, tutti insieme, ripetiamolo più volte, vi invito quando avrete un momento di tempo libero a farlo però con tutto il cuore, a ripetere per 50 volte con la corona del rosario, la frase che oggi il buon ladrone nella liturgia di questa solennità e pronuncia nel Vangelo di Luca, Gesù ricordati di me del tuo regno, facciamolo per noi, facciamolo per tutti quelli che non conoscono Gesù e che il Signore di anche a noi il cuore di Gesù, re dell'universo, di anche a noi la gioia, la grazia di proclamare con la nostra vita questo bellissimo urlo di fede, viva Cristo re, avanti con Maria e buona solennità di Cristo re dell'universo.